Ha avuto serie conseguenze sulla circolazione della domenica sera l'incidente che ieri, attorno alle 19, ha bloccato per circa 40 minuti via del Boschetto Sottomarina, dove una signora alla guida di una Fiat 600 è uscita autonomamente di strada, andando a impattare contro la recinzione. Nell'urto la donna ha battuto la testa sul parabrezza, rompendo il vetro. Da questo si evince che probabilmente stava viaggiando senza aver aracciato le cinture di sicurezza. La malcapitata è stata presa in cura dei sanitari, mentre la vettura non risulta sequestrata dalla polizia locale, che ha comunque diretto le operazioni di rimozione, di modo da liberare la sede stradale alle ore 19.40. Nel frattempo si erano verificati prontamente incolonamenti disagi, data anche la particolare ora e giorno della settimana. Sottati tutti assolti i 42 pescatori chioggiotti, veneziani e polesani implicati nell'inchiesta Laguna Reset, per i quali il pubblico ministero Giorgio Gava lo scorso ottobre aveva chiesto invece 60 anni complessivi di reclusione. Cade dunque l'accusa di aver provocato danni ai fondali con attrezzi impropri e di aver messo a rischio la salute dei cittadini commerciando bivalvi pescati in zone inquinate. Secondo il collegio giudicante all'aula bunker di Mestre, non c'erano prove o elementi per avvalorare le attesi dell'accusa, dal momento che l'intera impalcatura processuale si fondava su fonti telefoniche e non sul reato commesso in flagrante. Inoltre dai taburati non veniva confermata la presenza dei pescatori nelle zone lagunari in questione nei giorni e nelle ore contestati. Nel 2014 l'avvio dell'indagine da parte della Guardia di Finanza portò a 24 misure cautelari. Erano le 9 di stamane quando Günther Demnig, artista tedesco che vent'anni fa lanciò le pietre d'inciampo a memoria dei deportati nei lager nazisti, ha installato il cubetto di porfido di 10 cm x 10 in piazzale Poliuto Penzo, tra l'arrivo del Canale Lombardo e Calle Campanile Duomo, per commemorare Guido Lionello, antifascista chioggiotto che ha concluso i suoi giorni nel campo di concentramento di Dachau il 22 maggio 1945. La cerimonia è la presenza del sindaco Alessandro Ferro, dell'assessora alla cultura Isabella Penzo, delle autorità militari e delle associazioni d'arma. Il vicepresidente dell'Ampia, Enrico Veronese, ha ripercorsi i tratti salienti della biografia di Lionello, nato in quel piccolo campo nel 1901 dalla famiglia di un pescatore anarchico. Il giovane Guido si imbarcò nelle navi mercantili fino a disertare il servizio di leva sotto il regime fascista, rifugiandosi dapprima negli Stati Uniti, poi in Jugoslavia, Austria, Svizzera, Francia e partecipando alla guerra di Spagna nelle brigate repubblicane internazionali. Arrestato dalla polizia collaborazionista francese avrebbe dovuto essere estradato nel luglio 1943, ma il crollo del fascismo e la fine dell'alleanza con Hitler lo inviarono nei campi di sterminio, dove morì stremato a meno di un mese dalla fine delle ostilità. Il sindaco I Lampi, l'associazione dei partigiani promotrice dell'iniziativa, hanno omaggiato Demnig di volumi fotografici aventi a tema la città e la laguna, prima del suo viaggio verso il Friuli Venezia Giulia per installare altre pietre di Ciampo. Se c'è una cosa che ha messo d'accordo Clodiense Chioggia Sottomarina e Arginiano Valchiampo, alla fine dell'incontro in Laguna vinto dalla formazione ospite per 2-1, con i gol di Valenti e Ferri a rimontare quello iniziale di Giulic, è che tra le due realtà non si siano affatto visti i 20, poi 23, punti di distacco in classifica. E al cospetto di una delle squadre papabili per il salto di categoria, che fa del bel gioco organizzato e ordinato e la propria cifra stilistica, i Granata di Vittadello hanno opposto tenacia, applicazione, concentrazione e volontà. Non sufficienti a strappare punti, complici un paio di uscite approssimative del solitamente impeccabile Camerlengo e la frettolosa espulsione di Ballarin, decretata dall'albero arbitro pordenonese Sfira. E basta, nel senso abbiamo già dato. Soprattutto il secondo fallo non pareva passibile di ammunizione, specie confrontato con altre decisioni, un rigore reclamato per parte, altri fischi discutibili, di un direttore di gara apparso troppo spesso e lontano dall'azione. Ben inteso, i chiugiotti ci hanno messo del loro e Sfira non è il cardella della partita contro il Bolzano, ma il migliore dei giallo-azzuri è stato il portiere Tosi e anche questo vorrà dire qualcosa, oltre ad aver attaccato a viso aperto fino all'ultimo. Regilarsi tra le mani la classifica serve a poco, pur nella contemporanea caduta rovinosa del Trento e nella sconfitta del Tamai. L'uscita dai play-out resta lontana, meglio è loro a confortarsi per la prestazione convincente, perché non può piovere per sempre. Intitola Concludendo, la due giorni con la quale, questa sera e domani dalle ore 20 e 30 al centro civico di Pegolotte, l'amministrazione uscente del comune di Cona racconta ai cittadini cosa compiuto negli ultimi 5 anni, verso le prossime elezioni amministrative. Alla testa della Giunta il sindaco Alberto Panfilio, che spesso è apparso anche alle cronache nazionali, per la sua reiterata protesta contro la gestione delle centinaia di migranti alla ex base militare di Conetta. Il tema è stato al centro della vita di tutti i giorni nella comunità, fino allo scorso dicembre quando la prefettura ha provveduto allo sgombero, ricollocando i richiedenti asilo in varie altre strutture, Venete e non solo. Panfilio ha già dichiarato che dato lo stress del quinquennio non si ricandiderà a sindaco. Amici carissimi di Nettoca Azzurra e Meteo Brollo, buon giorno a tutti e naturalmente buon inizio settimana. Alcuni dati sono circa due mesi che sul nostro territorio, e non solo, non piove in maniera significativa. Un dato su tutti i mesi di gennaio, che tendenzialmente resta comunque un mese molto assurdo e davvero di precipitazioni, ha visto per il momento solo circa 4 mm di pioggia per metro quadro. Quindi possiamo tranquillamente dire che sotto il Veneto vive un momento di siccità. Quindi speriamo che le piogge previste, le nevicate abbondanti in montagna si facciano strada nel mese di febbraio, altrimenti avremo seri problemi per la primavera entrante. Ma ritornando a quelle che sono le condizioni meteo, possiamo dire che questa settimana potrebbe segnare il passo. Sì, perché l'inverno sta per scatenarsi, nel senso che saranno ben tre gli eventi perturbati, diciamo, che transiteranno sulla nostra regione, cominciando da oggi, sul finire della prossima settimana. Nessuno di questi sarà comunque sconvolgente, ma naturalmente potranno dare degli effetti piuttosto vistosi sul territorio, specialmente dal nord. La perturbazione di oggi ha creato un minimo barico sull'Alto Adriatico che naturalmente ritarderà il passaggio verso sud-est, creando appunto questo minimo. Le regioni che saranno più coinvolte dai fenomeni saranno appunto il Basso Veneto, l'Emilia Romagna, le regioni del centro e del sud Italia. Marginali comunque sono stati e saranno gli effetti sul territorio diciamo clodiense, con qualche minuto di pioggia, un po' di ventilazione dal nord-nord-ovest e niente più. Entro il pomeriggio sera l'istrazione migliorerà, ovviamente coapportando poi domani una giornata tendenzialmente soleggiata e buona, a parte qualche banco di nebbia probabile proprio nella mattinata. Poi sarà da mercoledì che la situazione comincerà a cambiare perché un ulteriore fronte con la nesta depressione transiterà in maniera abbastanza veloce sul nord Italia, apportando significativo maltempo sulle regioni del nord-ovest del Tirreno, marginalmente anche sulle nostre zone, verso la serata di mercoledì, con neve a quote interessanti. Per interessanti intendo tra i 200 e i 100 metri, qui staremo un pochino a vedere. Poi ulteriore pausa soleggiata tra giovedì e venerdì e poi nuova ondata depressoria tra venerdì e sabato che dovrebbe scaricare ulteriore appunto apporto liquido sul nostro territorio. Il tutto sarà condito con un rinforzo dei venti, da prima dal nord-ovest e poi dal nord-est, temperature che si manterranno comunque su valori consoni al periodo, quindi tra i 2 e i 3 gradi notturni e i 5 e 8 gradi del pomeriggio, ma essenzialmente non rigidi. Quindi questa in sintesi della settimana entrante, vi auguro comunque una buona giornata, ci sentiamo domani.